Il primo video che ho fatto vedere ai vostri bambini che ha suscitato tante domande E poi vi vedremo un altro che mi raccomando dovrete stare molto attenti perché dopo toccherà a voi, ok? Ciao Massi, vieni, vieni, guarda che bello, benissimo Andiamo là, 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 qua, 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 il sole, tutto il canale, il sole, il sole, il sole, il sole, il sole, il sole il sole, il sole, il sole, la unità di più, il sole, il sole, se ne I pianeti, ma questo giallo che cos'è, quello azzurro che cos'è? Ma questo giallo che cos'è, quello che stai facendo te? E' un po' chiedere? E' un po' chiedere? E' un po' chiedere? E' un po' chiedere? Adesso, non vorrei che c'è la vacuna. La Valenzina? O fa' un po' chiedere? E' un po' chiedere? E' un po' chiedere? Un po' chiedere? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un bracciale, una collana, perché le pietre in pressione ci sono nelle miniere. Però bisogna fare in quantità la strada, anche dentro la tetuto morbido morbido. E poi lasciare la vostra impronta su un bel foglio. Ah! Ah! Un bracciale, una collana, perché le pietre in qual è più bello. E poi... Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.